segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te anche 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 a te chiedo di metterti diciamo un po in una posizione imparzialità che non sarà proprio semplice essendo il marito il coordinatore della mozione di shine a te ti piace litigare di politica con il marito anzi di fare la guastatrice in famiglia a me incuriosisce innanzitutto io sono molto incuriosita le figure femminili in politica in generale e come mi incuriosiva giorgia melone meloni mi incuriosisce lei dall'altra parte la considero sicuramente una novità nel panorama cioè io immagino un partito democratico alla cui guida c'era enrico letta che penso che una cosa condividiamo senza dubbio abbia fatto un po di disastri compresa la scelta scellerata e lo dico da donna di centrodestra di non allearsi alle elezioni e quindi di condannarsi alla sconfitta annunciata in tutti i collegi senatoriali e alla camera dei deputati dopo enrico letta secondo me il partito democratico ha bisogno di un cambiamento anche di uno shock per certi versi noi abbiamo da una parte giorgia meloni il centrodestra e quindi una destra molto radicata molto forte e dall'altra parte c'è conte che ha avviato un opa sostanziosa lasciamo stare le regionali non sono mai stati forti alle urne nelle amministrative un opa sul partito democratico che combatti solamente se ritorni sull'area di sinistra che rappresenta la schline e questa non è diciamo un'analisi interessata il terzo polo in questo momento e quindi l'area moderata della sinistra già c'è rappresentata da renzi e calenda qual è lo spazio politico del partito democratico ecco a chi parla il po male renzi e calenda una battuta